Traditore rilevato Mina a ricerca esplosione aerea traditori rilevata Mina a ricerca esplosione aerea nemica rilevata Mina a ricerca esplosione aerea traditori rilevata Mina a ricerca esplosione aereo Mina a ricerca esplosione aerea traditori rilevata Mina a ricerca esplosione aerea traditori rilevata Mina a ricerca esplosione aerea nemica rilevata Mina a ricerca esplosione aerea traditori rilevata Mina a ricerca esplosione aerea traditori rilevata Si sta a tutti Un breve sentimento Ok Sei ancora con noi adesso? Agente traditore eliminato